ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come uno scatto tenerissimo da parte di davide figlio di paolo bonolis con la mamma fa davvero emozionare possiamo raggiungere tutti gli obiettivi del mondo ma il successo la carriera e la ricchezza perdono di significato se insieme a tutto questo non abbiamo anche l'amore e l'affetto che solo la famiglia è in grado di dare amare essere amati e poter sempre contare sull'appoggio di qualcuno sono solo alcune delle cose che si verificano quando si è circondati da persone care questo vale proprio per tutti sia per coloro i quali svolgono un lavoro normale sia per le celebrità del mondo dello spettacolo sono molti infatti i vip che nonostante i mille impegni e viaggi di lavoro scelgono di non tralasciare la propria vita privata tra essi vi è anche paolo bonolis il conduttore infatti nel 1983 convolò a nozze con la psicologa americana diane zweller e dal loro matrimonio nacquero anche due figli stefano e martina bonolis i due misero fine alla loro relazione nel 1988 nove anni dopo nel 1997 paolo incontrò l'imprenditrice sonia bruganelli sua attuale moglie dalla loro unione ufficializzata con il fatidico si nel 2002 sono nati altri tre figli silvia davide e adele i quali ad oggi hanno rispettivamente 20 19 e 14 anni quella di bonolis è una famiglia molto unita così come testimoniano le foto e i video pubblicati sul profilo social non solo di sonia ma anche dei suoi figli ecco a tal proposito lo scatto condiviso da davide in occasione della festa della mamma paolo bonolis il figlio davide pubblica un dolcissimo post social in occasione della festa della mamma l'amore che un genitore prova verso i propri figli è qualcosa che non si può spiegare esattamente come quello che i figli sentono nei confronti dei loro genitori è un legame labile certo fatto di scontri e discussioni specie quando i ragazzi attraversano la fase adolescenziale qualsiasi cosa accada però una cosa è certa niente può spezzare il filo che lega una mamma ai suoi figli e viceversa ed è proprio un amore smisurato quello che emerge dalla pubblicazione che sul suo account ufficiale davide bonolis ha condiviso per la festa della mamma appena trascorsa il figlio di paolo bonolis e sonia bruganelli infatti ha postato uno scatto su instagram in cui appare sereno abbracciato alla sua mamma ciò che non è passata affatto inosservata inoltre è stata la dolcissima dedica del ragazzo che in sole tre parole ha racchiuso l'unico e vero significato della parola famiglia la mia vita grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video